buongiorno buongiorno a tutti allora sono in colpevole ritardo lo ammetto con le pagelle di milanempoli però è un contenuto che è una serie di contenuti quelle delle pagelle che non posso non fare quindi anche se ieri vi devo dire la verità dopo la partita ho spento tutto riattaccato solamente per internapoli e non ho preso una giornata di pausa per dopo una settimana un po complicata nella mia vita oggi oggi torno con le pagelle di milan di milanempoli e quindi partiamo partiamo vi ricordo inoltre che nel box descrizione trovate sempre il link di sportium lab ieri barcellona la spalma si è stata messa in palio con viaggio hotel e partita pagata ma nei prossimi giorni tornano le partite di serie a le coppe europee il link in descrizione seguiteli e tenete d'occhio il loro posto allora megnan partiamo da megnan voto 6 partita tranquilla partita serena senza alcun pericolo in corso nella porta di mike a parte appunto quel gol tirato fuori col della domenica di del verona per il resto tutte le occasioni che ha avuto il verona non hanno particolarmente impegnato megnan che ha fatto una partita di ordinaria amministrazione vi ricordo intanto prima di proseguire con le pagelle di scrivere nei commenti il vostro top e flop della partita e se avete voglia magari tutte le pagelle giocatore per giocatore esattamente quelle faccio io calabria l'unico bocciato l'unico bocciato cioè ieri in una partita in cui praticamente a parte girù e chier che subentrati non hanno fatto granché chi è partito titolare è tutto oltre la sufficienza il signor calabria ieri è riuscito ad andare in difficoltà su grande giocata del giocatore del verona che è extraforma e secondo me è un giocatore che fa la strada però perché non sto dicendo il nome perché in questo momento totale vuoto di memoria non mi viene il nome il giocatore che ci ha segnato ieri però ieri ha fatto una partita bellissima detto questo calabria è andato in in una difficoltà pazzesca in una difficoltà pazzesca offensivamente non ha aiutato difensivamente non ha aiutato è un giocatore discontinuo è un giocatore che quest'anno sta facendo una delle sue peggiori stagioni di sempre al mila quando capiremo che bisogna fare un upgrade su quella fascia voto 4 e mezzo calabria tomori bella partita ma sciocco il giallo per il resto fa una partita da 6 meno ma sciocco quel giallo che avrebbe potuto condizionare la partita di tomori che però poi devo dire al netto che è stato sciocco il giallo è stato lui molto bravo poi a gestire l'emozione a gestire la partita e non farsi sbattere sbattere fuori calulu fa una partita da 6 poi purtroppo l'infortunio che speriamo non lo tenga i box per tanti ci priva di questo ritorno della coppia tomori calulu che tanto aveva ben fatto nel finale di campionato del 2022 teo hernandez voto 9 partita esemplare di teo difensivamente ma soprattutto offensivamente ritrovato treno hernandez tantissime discese quando ci sono gli spazi se li prende tutti si prende un gol di caparbia si prende un gol di prepotenza si prende un gol di voglia solo applauso e scena aperta per teo hernandez macchiata la prestazione di teo hernandez da un giallo criminale dell'arbitro mariani giallo ha chiamata dell'allenatore del verono una vergogna per il quale mariani dovrebbe chiedere scusa essere multato per il resto partita pazzesca di teo hernandez e kier non mi è piaciuto molto il suo ingresso in gamma anche se ha fatto pochi minuti ha dimostrato di non essere un giocatore in questo momento adatto a giocare in un club di alto livello infatti si andrà a separazione nel final di stagione quindi per me va sotto la sufficienza anche giocando pochi minuti per quanto riguarda invece il primo cambio gabbia fa una partita secondo me da sei senza né infamie né lode ben naser allora ben naser non è ancora continua a non essere il ben naser pre infortunio continua ad avere qualcosa che che lo frena però ieri a parte quella rispinta un po così così sul gol che abbiamo subito diciamo che il suo dai l'ha fatto un sei meno glielo possiamo concedere reinders invece fa una partita magnifica a tutto campo gli manca solo la precisione nel tiro avrebbe meritato il gol ieri partita da 7 di tigiani un po sottotono invece l'off to chic anche se fa quel lavoro sporco quello che non si vede quello di fisico quello di fare a sportellate con la difesa avversaria ieri non è stato il solito loftus per me fa una partita da 6 per quanto riguarda gli esterni ritengo vergognoso che leao al fantacalcio abbia preso 5 e mezzo perché se gli è mancato praticamente solo il gol se leao avesse fatto gol prendeva 10 invece no piglia 5 e mezzo perché perché si è mangiato il gol sotto la porta così come ursolini ma non è giusto nel senso che tu devi giudicare tutta la prestazione non solo che si è mangiato il gol leao non segna ma fa una partita stupenda una partita in cui si sono visti sprazzi del vero leao tante belle sgaloppate tante belle discese tanti belli inserimenti che mi sono piaciuti molto purtroppo non trova la via della rete e la sua partita secondo me è da 6 e mezzo pieno pulisic ma che ve lo dico a fare pulisic è magnifico pulisic è stupendo pulisic è superbo pulisic è fantastico mamma mia pulisic ma a parte il gol è ovunque è ovunque si incazza pure quando lo levano e fa bene perché è sul pezzo perché già gringa perché già voglia di dimostrare solo applausi per christian pulisic 7 e mezzo ocafor fa una partita da 6 e mezzo peccato per quella grande parata di montipò che gli toglie un gol bellissimo per il resto si vede molto fuori dall'aria rispetto a girù è molto più nel vivo dell'azione è meno presente in aria ma è molto più nel gioco di squadra e quindi anche lì buona partita girù ieri è entrato si è fatto qualche buon appoggio ma quando c'è girù fuori dall'aria il milan perde tanto nell'aria ne guadagno perché nell'aria se arriva una palla lui è un killer te la butta dentro però fuori dall'aria perde tanto perde tanto per me ieri girù è da 5 e mezzo e ciucuese che invece entra bene in una partita in cui c'erano gli spazi per ciucuese per fare bene e sono contento che abbia trovato minuti l'avrei messo anche prima trovo un gol non da ciucuese cioè non in azione rapida in triplica no ma con un bel tiro di controbalzo molto molto bene speriamo che questo sblocco mentale questo ritorno al gol che mi sembra mancasse dalla partita col Borussia Dortmund di novembre possa essere di buon auspicio per questo finale di stagione e che ciucuese possa farne almeno 4 o 5 da qui a fine stagione migliorando così anche sotto l'aspetto numerico la sua stagione allora fatemi sapere la vostra nei top e flop o se avete voglia tutte le pagelle qui sotto nei commenti seguitemi su instagram twitter e tiktok il link è in descrizione sotto quello di sportium lab e noi ci vediamo oggi nella live di controcalcio sempre forza mille